Semi finale della Coppa America tra Cuba e Cile ed è stacchio 1 a 0 conducete questa partita come è andato questo primo tempo? Solo un gol? Molto sofferto. Bella partita, una semifinale sicuramente squadre molto compatte dietro proprio per questo. Sì, loro hanno preso un palo nella fine però ce la possiamo fare. Aperta tutti i risultati, in bocca al lupo. Vediamo Rosati, l'autore del gol, Antonio. Grande senso del gol per te in quell'occasione. Stiamo giocando bene partita dura, giusto che sia. Una semifinale, tutto è possibile. Adesso è arrivato anche Maranillo a loro, il secondo tempo se la giocherà anche lui. Adesso lo troveremo. Basile, bellissima occasione per te, grande risposta del portiere. Forse oltre il palo sul finale l'altra bella occasione è stata proprio la tua, un dribbling secco, tiro di punta. Grande intervento del portiere loro è uno dei migliori in campo sicuramente. Sì, sì, il portiere ha fatto due o tre interventi. Comunque con il vostro palo praticamente potrebbe essere benissimo uno a uno, quindi partita apertissima, che ne pensi? Sì, penso che dobbiamo giocarci meglio nelle nostre carte in secondo tempo, cercare di rimettere in piedi questa partita e cercare magari di andare a arrivare in finale. Perfetto, in bocca al lupo allora al Cile. Ciao ragazzi, eccoci qui purtroppo con Orlando del Cile in semifinale contro il Cuba, per favore. Dario Zupo migliore in campo, migliore dei suoi, Vincenzo Orlando, Enzo, due a zero e siete usciti, tre a zero, siete usciti, un po' di diatriba con l'arbitro, ma a parte questo, come avete giocato? Ah, abbiamo giocato male, ma di questi effetti sono io migliore dei miei. Proprio zero, sembravamo vuoti in mezzo al campo, cioè zero proprio, cioè non eravamo aggressivi, niente altro. Mi dispiace che abbiamo disputato un bellissimo torneo. Sì, sicuramente un grande Cile, buoni acquisti, però forse il ritardo di Maranello che non è arrivato concentratissimo. Proprio fermi in mezzo al campo, non abbiamo però giocato, cioè meritano la vittoria sicuramente. Perfetto, comunque un grande torneo, ribadiamo, del Cile tra le prime quattro di questo torneo a 16 squadre, molto alto livello, ci hanno detto molte persone, le ha detto ai lavori che è stato un livello abbastanza alto. Infatti sto contento di essere arrivato comunque in semifinale. Sicuramente in semifinale tra le prime quattro non è stato un risultato pessimo, anzi molto buono. Complimenti al Cile, ci rivediamo con il Blue Island sicuramente a settembre. Boccalò parlando, complimenti, alla prossima. Dario Zupo, migliore dei suoi, giudicato dalla giuria che giudizia i giudici. Dario, com'è andata questa partita? 3-0, a parte un po' di scaramucce con l'arbitro, però sicuramente la partita non è stata decisa dall'arbitro sicuramente. Abbiamo meritato perché abbiamo girato molto la palla dal primo minuto. Però è stata una partita molto equilibrata che abbiamo giustato alla fine. Sì, primo tempo 1-0 con un pallo loro sul finale primo tempo. Equilibrata, però noi quello volevamo, dobbiamo arrivare in finale a tutti i costi. Questo Venezuela come lo vedi in finale? Secondo me sono molto superiori a voi. A voi addirittura molto superiori? Giocano tutti bene la palla, tutti fatti a finale. Però ce la giudiamo? Sicuramente, la finale è sempre una storia se il pallone è rotondo e non si può decidere niente prima. Chiudiamo Zupo con una dedica, siete tra le prime due in ogni caso di questo grande torneo. Ho fatto un bel torneo, come va alla finale? Perfetto, complimenti a Zupo, un saluto al Cuba, ciao alla prossima.